Scusate, scusate, signori, signori, scusate, un momento di attenzione, scusate, scusate, avete visto l'orologio? È quasi mezzanotte, siete pronti ad accogliere le ali del cambiamento? Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! Sì, sono i pipistrelli quelli che avete sentito, sfortunatamente non l'ho fatto in tempo e quella notte è stata l'inizio della fine. Questa è una scena tratta dal nostro ultimo film, che sono convinto catturerà l'attenzione di tutti i cultori del genere horror. Io interpreto il ruolo di un giovane bibliotecario che per lavoro si recca in una remota zona dell'est Europa, lì, in una serie di eventi misteriosi, scoprirò uno scuro e mortale segreto di famiglia. E questo, signori? Beh, questo è solo l'inizio. Intrappolato in una rete di inganni da una creatura millenaria, per sopravvivere dovrò cercare la verità in una lotta contro il tempo, prima di arrivare a quell'ultima notte in Italia e al rituale dove la chiave per la sua risurrezione sarà... Stanno arrivando! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Grazie a tutti.